Ieri a Vascondi Carbonera, in provincia di Treviso, si è sfiorata una tragedia. Un cacciatore di 52 anni ha sparato accidentalmente contro un'automobile sulla quale viaggiavano ben tre persone, un ragazzo e due donne. Fortunatamente i palattoni del fucile hanno colpito il radiatore dell'autovettura e non hanno causato feriti. Ma cosa sarebbe successo se la loro traiettoria fosse stata soltanto un po' più alta? Bastavano pochi centimetri e una persona innocente sarebbe rimasta gravemente ferita o morta. Adesso basta, è arrivata l'ora di smetterla con questi incidenti dovuti sia alla spavalderia dei cacciatori che alle attuali regole sulla caccia ormai vecchie e desuete. Prima di tutto bisogna portare ad almeno un chilometro la distanza di sicurezza da case e strade da dove è permesso sparare, vista l'alta densità abitativa delle nostre campagne. E poi, e soprattutto, bisogna fargli fare tutti gli esami a quei cacciatori che hanno ottenuto la propria licenza più di dieci anni fa. Pensate che chi l'ha ottenuta prima dell'89 non ha nemmeno dovuto sottoporsi ad alcun esame. Come eurodeputato ho intenzione di scrivere al prefetto di Treviso affinché intervenga più presto per questa grave situazione di emergenza, prima che ci scappi davvero il morto. Inoltre ho intenzione di proporre delle norme che finalmente tutelino i cittadini da questo Far West.